Dopo domani le quattro molisane scenderanno in campo per la seconda giornata di campionato. Il Boiano debutterà in casa contro la Civitanovese. Al Colalillo arriva l'undici marchigiano, una delle big del girone. Sul fronte mercato la squadra di Di Consa sta ultimando le trattative. Ieri si è aggiunto alla rosa biancorossa l'attaccante spagnolo Munoz, che già domenica potrebbe scendere in campo. La società ha inoltre avuto contatti anche con l'ormai ex capitano dell'Isernia, Nicola Panico, che sembrerebbe ad un passo dal Boiano. L'attaccante ieri pomeriggio ha lasciato il capoluogo Pentro per divergenze con la società. Se nelle prossime ore la dirigenza matesina riuscirà a risolvere le problematiche relative al tesseramento, l'attaccante potrebbe già essere in campo contro la Civitanovese. E proprio la squadra bianco-celeste per la seconda giornata di campionato farà visita al Giulianova, dell'ex direttore sportivo Enzo Agliano. All'Angelini di Chieti andrà in scena il match tra Sulmona ed Olimpia Agnonese. Due partite contro le Molisane per la neopromossa, che domenica scorsa ha affrontato e superato l'Isernia. Non sarà della gara il difensore centrale Bianchi, che si è infortunato nella rifinitura di sabato scorso. Intanto ieri il mister Urbano ha testato i suoi ragazzi in un amichevole contro la Junioress Nazionale. Seconda avversaria di livello per il Termoli. Domenica e Giallorossi faranno visita all'Ancona. Si sono riaggregati al gruppo Miani, fermato negli scorsi giorni a causa dell'influenza, e Genchi, che ha recuperato dall'affaticamento muscolare. Partita tra l'altro molto sentita dall'attaccante e da Guglielmi. I due, infatti, la passata stagione hanno vestito la maglia marchigiana. È tornato ad allenarsi anche Mandorino, anche se il rientro in campo è previsto tra 20 giorni. Le partite inizieranno come sempre alle 15. Mercoledì poi altro impegno in Coppa per i 32esimi della competizione. Il Termoli e l'Agnonese, uniche molisane ancora in gara, dovranno affrontare due trasferte. Le compagini se la vedranno rispettivamente con Torrecuso e Pomigliano.